Ciao, sono Annalisa e sono la responsabile operativa di BIPOP. Negli anni abbiamo creato una connessione stabile e vincente tra noi e i nostri partner. Riteniamo infatti che una buona comunicazione interna sia alla base di una strategia comunicativa efficace, capace di attrarre il pubblico. Il mio compito è quello di raccogliere informazioni e materiale foto e video e rielaborarlo fornendo anche un supporto tecnico in modo tale da creare un prodotto fruibile e trasformarlo in articolo e post social creando la cosiddetta cornice editoriale. Inoltre il mio scopo è quello di cercare le parole giuste per creare un messaggio che in maniera chiara e semplice esprima l'idea del contenuto che il partner vuole proporre. Vi aspettiamo in BIPOP, il protagonista sei tu! Ciao!